L'immagine di questo tempo, l'immagine dominante è quella delle terapie intensive. Allora ho pensato e sto tentando in questi giorni di prova di hospes, hospitis di Fabio Pisano, al Mercadante, di trasformare il teatro in una sala di poesia intensiva, perché questo in qualche modo, se non curi, se l'arte non può, almeno lenisca la ferita di questo tempo. È una terapia, poesia intensiva che serve a noi come comunità artistica per ritrovare senso e spero serva al pubblico per ritrovare quella relazione che ci viene negata in questo tempo.